Roberto sottopone Tommy al test del DNA. Il momento della verità arriva con una nuova puntata di Un posto al sole in onda surra e tre. Dalle anticipazioni della settimana dall'11 al 15 settembre risulta che Roberto scoprirà che Tommaso non è suo figlio. Come reagirà alla notizia? Una svolta che i telespettatori aspettavano da tempo, ma l'esito è meno scontato sia per Lara che per Marina. Intanto Rosa si ritrova ancora gelosa di Damiano, che si rivolge a Viola. Intanto Silvia porta notizie e annunzio, che si mette nei guai seri con Michele. Qual è il contenuto? Di seguito sono riportate le trame richieste per U-Pass. Un posto al sole anteprima 11-15 settembre, Roberto ricorda Marina in una nuova puntata di Un posto al sole. Viola continua ad esplorare lo strano rapporto che unisce Damiano ed Edoardo senza avere la minima idea di quali siano i suoi fondamenti. Rosa diventa gelosa quando vede Viola e Damiano avvicinarsi. Nel frattempo Nico torna dalle vacanze e racconta a Giulia della decisione di Franco riguardo al patio, lasciandola senza parole. Roberto decide di seguire le parole di Marina su Tommy. Ma ecco che arriva il momento fatidico. Luogo al sole, dall'11 maggio al 15 maggio settembre, Roberto fa a Tommy un test del DNA passo a molto altro tempo prima che Ferri si rendesse conto che i sospetti di Marina erano fondati. In una nuova puntata di Un posto anche le vedremo Roberto prendere le redini della vicenda e sottoporre Tommy al test del DNA. In conseguenza, è stato confermato che Tommaso non era figlio di Roberto, che ha preso una decisione inaspettata riguardo alla Lara inginocchiata. Un posto al sole, Roberto vs Lara showdown nel nuovo episodio Damiano si trova in una situazione sempre più difficile e il suo amore per Viola lo costringe a correre grandi rischi con Edoardo. Nel frattempo Nunzio finisce nei guai con Michele dopo aver ricevuto una notizia inaspettata da Silvia. A proposito di Nunzio, continua la sua vendetta su Alberto mentre cerca di riconquistare la sua ex amante, Diana. Roberto scopre che Tommy non è suo figlio e Lara vuole disperatamente che il suo piano fallisca. Ferri ora deve ricucire il suo rapporto con Marina ad ogni costo. Ha trattato così male Marina e non gli ha creduto che l'ha lasciata sola e ha addirittura sospettato che avesse tentato di strangolare Tommaso. Il confronto tra Lara e Roberto sarà un momento da non perdere. Ferri tenta allora di chiedere scusa a Marina, ma non riesce a fare nulla a causa della sua imminente partenza per Londra. È davvero la fine tra Roberto e Marina in un posto al sole e, soprattutto, cosa succede all'era? La trama si complica e non ci resta che attendere la messa in onda dei nuovi episodi su Rai3.